Piedi? Piedi. Poi dove? Piedi? Con il fucile. Vai vai vai. Ok, loro sono così come sono. Camuffati o mimetizzati? Camuffati. Ok. Perché? Mimetismo? Che cosa vuoi dire mimetismo, Luca? Mimetismo è quando tu stai fermo e sei notato. Di dove arriva la parola mimetismo? Ok. Allora, una cosa è camuffamento, una cosa è mimetismo. Ok? Poi adesso siete camuffati. Se li mettete in ginocchio e restate fermi, ok? Sono mimetizzati. Ok? Allora, sempre anche per il nostro gioco. Forzamente, a misura che sono diventati più gravi nel gioco, portate lì ci sono ovviamente delle giocate che sono più interessanti. Buono portare un piccolo mazzo di spado. Per fare praticamente una guida veloce. E non portare quella guida grande che ogni tanto fa un po' di veloce. Veloce? Domande adesso? Domande adesso? Paolo in due.